E' una persona serena, disteso, ti mette a tuo agio. Uno che conosce il cinema, che ama il cinema, non solo, ma anche un grande, proprio storico del cinema. I ricordi che mi regano a lui sono molto forti, molto positivi, molto belli. E' un uomo colto e sensibile. E' soprattutto un uomo vero. Mi piacque subito il suo stile, il suo modo di girare. Ma tenuto al battesimo davvero. Lo doppio quando ride. Sembra un vulcano col tappo. Perché lui quando ride fa, senza suono, a me mi viene istintivo di fare. Ti dà una grande tranquillità. E' un dolce ragazzo. Ha una grande classe, inutile dirlo, insomma, una classe tutta sua, molto particolare. E' un regista che comunque dà una certa soggezione. Ma lui è straordinario, lui è senza età. Un regista che sapeva dirigere gli attori molto bene. Credo che sia un uomo che comunque ama la bellezza. La bellezza delle donne, la bellezza della natura, la poesia della vita. L'insanio è un cardinale, è un principe, è un papa, è un moriscieliero. All'inizio è un patrioty新ata. La bellezza del mondo, è un luogo che è grandina. Grazie a tutti.